Vorrei cominciare, quindi mando la sigla, vai bello! Fidanzato e innamorato, per Gabriel Garco potrebbero esserci novità in arrivo. I giornali di gossip ne sono certi, c'è un nuovo amore nella vita dell'attore torinese che avrebbe ritrovato il sorriso accanto a una persona la cui identità però è ancora avvolta nel mistero. Proprio bene, proprio bene! Ho detto a due chilometri a sinistra. A quattro chilometri girare a destra, poi dritto e poi ancora sorpassato un fiume, eventualmente cadete giù con la macchina! Sì, certo! Grazie! 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 Grazie!